Dai dati emersi dal rapporto Svimez si evince che nella nostra regione è in atto un vero e proprio calo demografico. In pochi decenni si è passati da 640.000 abitanti ai 560.000 attuali. La Basilicata ha perso circa 80.000 residenti. E' quanto afferma il consigliere del gruppo misso Giannino Romaniello, per il quale il problema occupazionale rappresenta la prima causa di esodo dalla nostra regione, ma anche l'immigrazione legata all'istruzione e quella sanitaria mostrano dati allarmanti. Bisognerebbe interrogarsi, dice, sulla funzione della università, che in Basilicata appare per lo più un parcheggio per gli inoccupati, e bisognerebbe rilanciare il suo ruolo investendo nella ricerca e nella innovazione, facendola diventare punto di riferimento delle piccole e medie aziende, che pure non mancano nel nostro territorio. Penso ad esempio a tutto l'ambito che riguarda il settore di qualità dell'agroalimentare o ancora attinente alle questioni ambientali. Si è proceduto in questi anni, aggiunge, a perseverare con gli errori del passato, con una politica incapace di guardare oltre le proprie filiere e interessi di partito, nonché di collocamenti personali.